Quello che vedete è ciò che resta della piscina coperta di scalea. Una struttura che sul tirreno cosentino era fondamentale per i bambini e gli adulti con disabilità e difficoltà motorie, ma non solo. L'affidamento della concessione a una ollossa andava per il meglio, quando però il 30 settembre del 2013 una tromba d'aria si scagliò con violenza sull'infrastruttura e la distrusse. Tanti danni, nessun ferito per fortuna. Da tempo la piscina è in uno stato di degrado. Nelle ultime ore una svolta. L'amministrazione comunale ha revocato la concessione all'associazione. Qualcuno si potrebbe chiedere perché dopo tre anni. Il motivo è semplice. Il motivo è che abbiamo dovuto attendere di capire come potesse andare l'esito del procedimento giudiziario, perché non dobbiamo dimenticare che il comune di Scalea è stato citato in causa per l'esercimento del danno. Procedimento che potrebbe andare per le lunghe. Non possiamo e non dobbiamo e non vogliamo soprattutto attendere tutto questo tempo per ridare alla comunità di Scalea un'opera che indiscutibilmente funzionava. Quindi abbiamo deciso di concerto con l'amministrazione, con la maggioranza consigliare, e l'organo esecutivo ha dato seguito a questa volontà di revocare la concessione della piscina coperta per studiare un piano di fattibilità da porre poi a base o di un project o comunque di un'altra formula amministrativa per rimettere in piedi la piscina e restituirla alla cittadinanza. Non siamo stati verbi, sono state tante e diverse le interlocuzioni con l'Aes per arrivare ad una transazione, ma a questa transazione pare che non ci sia stato il modo di arrivare.